Salve amici! Oggi i sottomarini fanno parte degli armamenti di 39 paesi. I più grandi si trovano in Russia e Stati Uniti. I sottomarini atomici contemporanei si presentano come incrociatori missilistici pesanti di importanza strategica con armamenti atomici a bordo. E in questo video vedrete com'è allestito l'interno del sottomarino più grande del mondo. I sottomarini atomici più grandi sono i sottomarini americani classe Ohio e quelli russi del progetto 941 Akula. Il più famoso di essi è il TK-208 Dmitry Donskoi, il quale ha battuto molti record mondiali, come quello per la potenza degli armamenti, la lunghezza, il dislocamento, la velocità e altri. Il progetto di importanza strategica 941 Akula è stato elaborato a San Pietroburgo nell'ufficio di progettazione Rubin, sotto la direzione di Sergei Kovalev. E il primo sottomarino di tipo Akula è stato costruito dall'azienda Sevmash nel 1976. È entrato in funzione nel 1980 e oggi è l'unico sottomarino di questo tipo tra gli armamenti della marina militare russa. I sottomarini classe Akula sono i più lunghi del mondo. La lunghezza del Dmitry Donskoi raggiunge i 172 metri, circa due campi da calcio. L'altezza della chiglia raggiunge i 26 metri. Il sottomarino ha un dislocamento di circa 48.000 tonnellate, più di 19 piscine olimpiche riempite fino all'orlo. Viene alimentato da una coppia di reattori atomici OK650 che producono 190 MW ciascuno, l'equivalente di 2 milioni di pannelli solari dalla potenza di 200 W. Il sottomarino è equipaggiato con due turbine da 50.000 cavalli ognuna. La velocità massima del portamissili è di 27 nodi quando è immerso. Immaginatevi un palazzo di otto piani che si muove in acqua a 50 km all'ore. In superficie la sua velocità raggiunge i 22 nodi. Nell'86 Akula è stato inserito tra i Guinness World Records. Si distingue per la sua struttura. È una sorta di catamarano con due corpus, tra i quali sono situate 20 rampe di lancio con missili balistici intercontinentali. Tutta la struttura è unita da un corpus leggero, all'interno del quale si è trovato lo spazio per altre tre capsule resistenti, i moduli di controllo della postazione centrale, della sezione dei siluri a prua e della sezione meccanica di poppa. Questa disposizione ha permesso di aumentare la sicurezza in caso di incendio e la capacità di sopravvivenza del sottomarino. Con lo scopo di diminuire i rumori, il corpus è coperto da uno spesso rivestimento di gomma, grazie al quale il sottomarino si può confondere con l'ambiente circostante. Il sottomarino è adatto alle latitudini nord dell'Artico ed è in grado di effettuare autonomamente manovre tattiche nei ghiacciai e sotto di essi. Il corpus di Akula è in grado di forare blocchi spessi fino a due metri e mezzo, a differenza dei sottomarini americani Ohio che non sono destinati alle acque fredde. Le enormi dimensioni sono dovute all'ingombro dei nuovi missili balistici intercontinentali pesanti con i quali è equipaggiato. A confronto con quelli americani, questi missili classe R39 hanno migliori caratteristiche digittate, 8300 metri. Ciò significa che possono volare fino all'equatore dal polo nord. Le gigantesche testate di 90 tonnellate, lunghe 16 metri e con un diametro di 2 metri e mezzo, sul Dmitry Donskoi sono 20. Tra gli altri armamenti ci sono 4 siluri da 21 pollici e 2 da 26. La difesa antiaerea è formata da 8 missili PZRK Igla-1. La struttura del sottomarino è talmente unica che fino ad oggi nessuno è riuscito a replicarla e, come ritengono alcuni esperti, nessuno sarà in grado di farlo. Ricorda una baguette leggermente schiacciata e all'interno è formato da due cilindri a forma di sigaro situati parallelamente, dal diametro di 10 metri, con tre corridoi tra le sezioni. E' come se in un enorme corpus ci fossero due sottomarini, poiché in ogni cilindro è tutto doppiato, anche i reattori, le turbine e le cabine. Grazie a questa struttura, la probabilità di distruzione è minima. Se una metà del sottomarino va fuori uso, la nave può continuare grazie all'altra metà. Il numero totale delle sezioni impermeabili è 19. Ci sono inoltre due camere di sicurezza che possono emergere in superficie, sufficienti per tutto l'equipaggio. A proposito, l'equipaggio è di 160 persone, di cui 52 ufficiali. Il comando della nave quando si trova in immersione avviene dalla cabine. Al suo interno si trovano diversi dispositivi di pilotaggio, apparecchi radiotecnici, antenne e periscopi. Un ponte più in basso, nella postazione centrale, avviene il comando per il lancio dei missili o dei siluri. Molte persone credono che l'interno di un sottomarino sia formato da chissà quante apparecchiature. Ciò è vero, ma una parte dei locali residenziali di Akula ricorda più gli scompartimenti di un treno. Lunghi corridoi, porte scorrevoli, rifiniture in plastica. Scendendo dalla passerella della zona residenziale, finiamo prima di tutto nella zona relax. I marinai chiamano questo locale la zona del rilassamento psicologico. Vi si trovano comode poltrone a dondolo, dove guardare dei film. C'è anche un vecchio televisore a tubo catodico costruito ad hoc per i sottomarini. Ci sono fiori e un acquario per i pesci. Proseguendo, finiamo in un altro luogo interessante, la palestra. Dietro c'è la piscina. Più avanti, sauna e docce. Il Dmitry Donskoi è stato creato per operare al nord, per questo l'acqua della piscina è sempre ghiacciata. La cosa migliore è tuffarcisi dopo la sauna, che per questioni di sicurezza è elettrica. Per arrivare agli altri locali bisogna passare attraverso una serie di zone residenziali e corridoi. Il corpo ufficiali e i comandanti vivono in cabine singole, il corpo ufficiali giovani in cabine doppie, i sottotenenti e i marinai in cabine da quattro. Nelle cabine dei marinai è quasi tutto come in un treno, come le cucciette a parete, solo molto più comodo. Ci sono scrivanie, armadietti per i vestiti e lavandini. Sopra ogni posto letto si trova una maschera antigas necessaria in caso di sostanze nocive nei dintorni. L'alloggio ufficiali ricorda un museo. Alla fine degli anni 2000, con il supporto del Museo della città di Tula, campo di Kulikovo, è stata installata un'esposizione permanente. Non ci dimentichiamo della mensa e dell'unità alimentare, la cosiddetta cambusa. Qui cucinano cuochi professionisti in continua formazione. La razione quotidiana di un marinaio prevede cioccolato, vino rosso, caviale rosso o pesce rosso. Anche i compleanni dei marinai vengono festeggiati. Il cuoco prepara una torta che viene consegnata nella postazione centrale del comandante della nave. Con il salone del comandante e della sua cabina termina l'escursione all'interno del sottomarino atomico più potente del mondo, poiché nelle sezioni di importanza strategica l'accesso alle persone non autorizzate è severamente vietato. L'unicità del Dmitri Donskoi sta anche nel fatto che il suo modello è stato usato in molti film, documentari e libri. Il giornalista americano Mark Episcopos ha riconosciuto le capacità micidiali del Dmitri Donskoi definendolo la macchina del giorno del giudizio universale. Amici, che ne pensate? Vale la pena spendere enormi fondi statali per costruire macchine del genere? Scrivete un commento, lasciate un like e iscrivetevi al canale. A presto!